Le giornate europee del patrimonio hanno fatto riscoprire nella zona tra Monte Castrilli e Avigliano Umbro la strada della Lignite e quella che gli operai nei primi del Novecento percorrevano per raggiungere la miniera e le fornaci di Dunaroba. Una passeggiata indietro nel tempo ha caratterizzato l'iniziativa promossa dal laboratorio del paesaggio di Monte Castrilli e Avigliano svoltasi nella foresta fossile di Dunaroba, evento che si inserisce nelle celebrazioni per le giornate europee del patrimonio. Più di 150 persone hanno partecipato alla camminata lungo la strada della Lignite. Partiti da Colle Secco nel comune di Monte Castrilli, i partecipanti si sono incamminati per il sentiero collinare che percorrevano gli operai nei primi decenni del secolo scorso per arrecarsi al lavoro nella miniera e nelle fornaci di Dunaroba. Un viaggio caratterizzato dalle storie raccontate dagli accompagnatori, storie di vita, di lavoro duro e talvolta anche di morte. Il pranzo del minatore ha servito a caratterizzare ancor più l'iniziativa svoltasi con il sostegno delle Proloco di Dunaroba e Colle Secco, prologo alla proiezione nel centro visite della foresta fossile di filmati e foto della storia di quel sito. E per finire un flash mob con i visitatori in ginocchio di fronte ai tronchi della foresta per chiedere rispetto e attenzione verso questo sito davvero unico che avrebbe bisogno di risorse attese da anni. Con un grande punto interrogativo si è voluta sintetizzare la domanda irrisolta di strategie e risorse non solo per la foresta fossile ma per l'intero comprensorio che ha sostenuto e promosso l'iniziativa.